Il ragazzo selvatico di Paolo Cognetti Vedete in questa slide iniziale le due copertine delle due edizioni di questo libro La prima edizione del 2013, quella a sinistra e la seconda edizione del 2017, a destra Nella edizione del 2013, come vedete, è la foto di un ragazzo selvatico che non è comunque Paolo perché il ragazzo selvatico è essenzialmente lui, Paolo Cognetti e nella seconda edizione, invece, del 2017 le illustrazioni di Alessandro Sanna e quindi ovviamente questa illustrazione, in particolar modo, della copertina ci accompagnerà lungo tutta quanta la spiegazione vi consiglio di prendere ovviamente questa seconda, questa nuova edizione perché sono molto belle anche le altre illustrazioni di Alessandro Il testo, dice Paolo, è stato anche leggermente corretto e modificato nel senso di una maggiore aderenza, ad esempio, alla lingua della valdostana per esempio, si è passati dalla trave nella prima edizione del 2013 a il trave nell'edizione del 2017 più aderente, dicevamo appunto, al dialetto insomma, in uso nella Val d'Aias, in quelle valli in cui essenzialmente è ambientato questo romanzo autobiografico che è la storia anche sua, la storia di Paolo la storia di Un'estate quindi ha anche, se vogliamo dei precedenti illustri come l'alcione di D'Annunzio solo che lì era un'esperienza un po' non so come dire, sofisticata appunto questa metamorfosi panica nella natura mentre questa è un'esperienza che trovo molto, molto moderna molto importante per noi stimolante, la sto facendo leggere dei ragazzi ritengo che questo libro sia un libro educativo per i ragazzi perché ci fa scoprire una dimensione che spesso mettiamo da parte diciamo la verità noi non sappiamo bene perché ma siamo insoddisfatti della nostra vita di cittadini e un motivo ci sarà abbiamo tante cose abbiamo tanti russi abbiamo tanti cellulari computer e tanti altri strumenti elettronici o stimoli insomma ma certe volte sentiamo proprio il bisogno di staccare la spina da tutto ciò e di dedicarci ad una vita più a misura d'uomo probabilmente se ci è capitato di fare delle gite in montagna come è capitato spesso a me sentiamo che questa dimensione ad esempio del camminare in montagna è una dimensione molto più umana rispetto a tantissime altre cose che facciamo magari seduti così come siamo sui banchi o sui nostri tavoli di lavoro quotidianamente e allora può capitare come a Paolo Cognetti di avere una crisi di mezza età vicino alla Trentina anche questo avrebbe un precedente illustre quello della Divina Commedia e di come dire di riconsiderare tutta quanta la sua vita a partire appunto da un'esperienza in un bosco in una selva in una montagna ecco come accade appunto a a Paolo ecco Paolo Cognetti uno scrittore che tra l'altro è diventato famoso proprio in quel 2017 della nuova edizione del ragazzo sello elevatico perché ha vinto il premio strega e il premio strega giovani con il suo capolavoro le otto montagne che però è un libro come vedremo la prossima volta che lo leggeremo e lo recensiremo è un libro molto strettamente collegato con con il ragazzo selvatico il ragazzo selvatico è una sorta di prequel insomma di prefazione una sorta di hobbit che precede il signore degli anelli è una sorta di premessa che forse è anche il caso di leggere prima del libro bellissimo delle otto montagne come vedete è stato anche tradotto in molte lingue quindi che ha ottenuto un grande successo che però per fortuna dice Paolo non lo ha cambiato assolutamente è rimasto quello stesso quel ragazzo quel giovane insomma ad esempio che andava a fare queste esperienze di cui parleremo adesso nella lettura del ragazzo selvatico potremmo leggere alcune recensioni di giornale per capire la novità la freschezza di questo libro ad esempio è stato scritto siamo tutti ovviamente del 2013 quindi di quando è uscita la prima edizione di questo libro ad esempio su avvenire per scoprire che si può imparare con facilità tutto dal coltivare un orto selvatico a cucinare con le erbe di montagna tranne che a stare da solo stare da solo non è tanto facile perché la montagna più vera può al massimo consegnarci una costellazione di solitudini tutto sta a farle brillare un attimo insieme e qui comunque l'articolista coglie una delle tematiche fondamentali direi di questo libro cioè da una parte la solitudine e dall'altra l'amicizia cioè il rapporto umano forse per riuscire a recuperare un rapporto umano vero sincero profondo forse occorre anche passare attraverso l'esperienza della solitudine così come fa Paolo in quella condizione appunto lì così isolato in una baita a 2000 metri sul livello del mare ancora su panorama la bellezza di andare dove non c'è il sentiero ecco le scoperte che fa Paolo da solo o appunto insieme con alcuni suoi amici cioè scoperte di di nuovi posti insomma che nascondono delle sorprese delle bellezze straordinarie perché la montagna dice appunto Paolo non è mai simile ecco ciò che noi vediamo in un tratto ad esempio di cammino di percorso è diversissimo da quello che vediamo poco tempo dopo o in uno spazio anche appena appena lontano l'attraversamento come valore in sé imitare il fisco delle marmotte camminare leggere le storie scritte nel terreno si scappa da quel sé che non ci appartiene più per vedere se nella solitudine della natura un altro io ci aspetta e anche in questo insomma c'è una certa analogia con Dante quindi Dante attraverso un cammino un percorso riscopre se stesso aveva perso se stesso all'inizio della divina commedia riscopre se stesso e vede se stesso nel volto di Dio alla fine del viaggio e così più o meno accade a Paolo che riscopre se stesso con questa esperienza di cammino di percorso ancora in tutto i libri non aspettatevi trame sofisticate o fuochi d'artificio Cognetti preferisce le magie silenziose ecco io davvero a parte il fatto che non insomma questo è un contributo didattico e quindi come dire non è un trailer di un libro o una recensione così estemporanea come sempre tutti i miei video dovrebbe servire per aiutare a capire meglio il libro e quindi nei miei video spesso ci sono delle anticipazioni perché spoiler cosiddetti perché a me interessa far capire il libro appunto interessa come dire comprendere fino in fondo il significato di un libro però qui c'è davvero poco da fare spoiler perché non è un libro che si legge per scoprire l'assassino alla fine insomma non è un libro che si legge per la trama ma un libro anche molto poetico e quindi adesso per esempio ve lo introduco ve lo spiego eccetera però non è comparabile questo alla bellezza della lettura del libro durante il quale ci sono anche delle poesie che non vi leggerò e quindi vi lascio questa curiosità di Antonia Pozzi è un libro diciamo fresco interessante nuovo è un l'ecologismo di Paolo è un ecologismo non radicale non polemico con tutto e con tutti e quindi mi piace ancora di più se è possibile il ragazzo selvatico edito da terra di mezzo si scrive in two style è diverso da tutto racconta i suoi mesi di solitudine in una baita e montagna per ritrovarsi per ricominciare a scrivere per recuperare nei boschi i fatti essenziali della vita è questo un po' anche qui se vogliamo un po' l'esperienza di Dante ma anche Dante per esempio per un certo periodo di tempo aveva abbandonato la poesia e poi c'è qualcosa che fa riprendere lo fa riprendere a scrivere che qui potremmo pensare anche a Leopardi che per un attimo ha avuto degli anni proprio di silenzio prima di riprendere a fare poesie e così Paolo che già aveva scritto 4 o 5 libri prima del ragazzo selvatico ritrova attraverso questa esperienza di solitudine in montagna ritrova anche la come dire il gusto di scrivere e anche grande ispirazione ecco come stavo dicendo da adesso in poi io avrei già detto più che ciò che è più che sufficiente per introdurre la lettura per invogliare la lettura del ragazzo selvatico adesso leggerò dei brani pertanto potrebbe essere utile per chi non vuole sapere insomma assolutamente niente della storia chiudere qua il video e aprire il libro che è la cosa più bella che si possa fare e magari riprendere il video da qui in poi una volta dopo aver letto il libro altrimenti se invece come accade ai miei alunni insomma utilizzate questo video per capire meglio lo scopo principale per cui faccio i video scopo didattico il mio sito si chiama a tutta scuola per quello io faccio i video per la scuola allora continuate a seguirmi ecco oh mamma mia c'è una ecco se c'è una pagina infatti prima cioè siamo proprio le prime pagine del romanzo ed è la prima parte che si intitola proprio in città quindi siamo in città sta per finire l'inverno e Paolo prende una decisione una decisione forte importante no? cioè quella di lasciare di mollare tutto no? Paolo Cognetti se non ho capito male vive a Milano e quindi di tornare in posti che lui comunque conosce cui è legato no? che sono posti di di montagna no? e decide di lasciare di mollare tutto e di andare in questo posto che si chiama le fontane Val d'Aias e Stull quindi Val d'Aosta beh lo fa anche un po' colpito da alcuni racconti di Mario Rigoni Stern e lo fa anche leggendo altri testi ad esempio mi colpì specialmente il viaggio di Chris McCandles raccontato da John Krakauer in Into the Wild è il romanzo che ha ispirato il famoso film no? forse è perché Chris non era un filosofo dell'ottocento ma un ragazzo dalla mia epoca che a 22 anni aveva lasciato la città la famiglia gli studi un futuro brillante concepito secondo i canoni della società occidentale ed era partito per un vagabondaggio solitario che sarebbe terminato in Alaska con la morte per fame anche qua vedete facciamo spoiler perché insomma diciamo già la fine di quel film ma credo che l'abbiate visto tutti è un film che ha colpito moltissimo gli spettatori è un'esperienza radicale che ha insomma ha generato magari reazioni diverse da chi appunto dice ma un'esperienza del genere è una specie di suicidio no? a chi invece ne è rimasto affascinato ed è il caso di Paolo e di tantissimi altri giovani che lasciano tutto lasciano la città per andare a fare una scelta diversa per andare a vivere in montagna come è capitato ad esempio ho visto in un servizio televisivo ad Anita Torresan che è una giovane che lavorava in un centro benessere a Venezia e che ha lasciato tutto è andata in Trentino a lavorare in una malga per 1300 euro al mese a mungere le vacche oppure è il caso di tantissimi altri giovani che lasciano i loro studi oppure le loro lauree in campi molto aggiornati e moderni come l'informatica o l'economia e commercio e vanno a lavorare in campagna ecco appunto dicevamo rimane colpito dalla storia di Into the Wild Paolo quando la storia divenne nota molte persone giudicarono la sua scelta idealistica appunto una fuga dalla realtà se non proprio una pulsione suicida io sentivo di capirla e dentro di me la ammiravo Chris non fece in tempo a scrivere un libro forse non ne aveva nemmeno l'intenzione così non sapremo mai come la pensava lui se infatti questo libro di John Krakauer è racconto di una storia vera la storia di Chris quindi non raccontata dal protagonista ma amava Toro e ne aveva adottato il manifesto ecco Toro un altro autore di riferimento di Paolo Cognetti cosa scrive Toro andai nei boschi perché volevo vivere secondo i miei principi per affrontare solo i fatti essenziali della vita per vedere se fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi e per non scoprire in punto di morte di non avere vissuto non volevo vivere quella che non era una vita né fare pratica di rassegnazione prima del necessario volevo vivere profondamente succhiare tutto il midollo della vita vivere in modo vigoroso e spartano e distruggere tutto ciò che non era vita falciarlo via con ampie bracciate radenti al suolo chiudere la vita in un angolo e ridurla ai suoi minimi termini e se si fosse rivelata miserabile volevo trarne tutta la genuina miseria e mostrarla al mondo se invece fosse stata sublime volevo conoscerla con l'esperienza e renderne conto nella mia narrazione ecco dicevamo appunto che i testi di Toro sono altri punti di riferimento come Walden che è stato pubblicato da Einaudi sono esperienze radicali ma noi forse sentiamo spesso sentiamo il fascino di qualcosa di una vita magari appunto più selvatica selvaggia primitiva che che ci porta all'essenziale che ci riporta a un passato ancestrale che probabilmente non abbiamo dimenticato del tutto ecco come stavo dicendo quindi dopo questo capitolo introduttivo basta Paolo prende lascia tutto e va a vivere in una baita in alta montagna assolutamente isolata o meglio accanto ad altre tre baite a formare una specie di non so come dire di agglomerato di paesuccio in mezzo però insomma ai prati in alta montagna dove di fatto c'è solamente lui infatti dice nel capitolo che intitola topografia anche se faceva un po' ridere ognuna delle quattro baite aveva il suo numero civico le fontane uno le fontane due fontane tre e fontane quattro a un certo punto qualche funzionario comunale doveva aver ricevuto il compito di registrare tutti gli edifici e così anche i rude risparsi per la montagna possedevano una targhetta con il numero il mio era l'uno un giorno l'altro pensavo scenderò in pianura mi spedirò una cartolina frazione fontane numero uno poi tornerò qui ad aspettare il postino che arranca su per il sentiero effettivamente dopo la pubblicazione di questo libro sono state spedite cartoline lettere in questa frazione di questo paese l'estul insomma champoluc insomma non so della valle d'aosta e c'è un bar qui arrivano queste cartoline che poi vengono prese da Paolo una volta che passa di nuovo in questo posto però è paradossale la scena perché effettivamente poi il postino non va a so 2000 metri a portare la posta la baita con la stalla grande aveva il numero 2 quella girata all'incontrario il 3 quella intonacata di bianco il 4 dice Paolo che ne ha preso un'altra di queste baite che sono che sono lì per farne in futuro un rifugio e ha fatto anche un festival perché si andasse insomma in questi luoghi a vivere un'esperienza turistica completamente diversa rispetto a quelli che vanno lì solamente per sciare o per diciamo senza rispetto ecco per per la natura ma lì abitavano solo i ghiri e i tassi che sentivano muoversi ogni tanto ero io la popolazione queste quattro baite c'è solo lui che ha affittato diciamo una baita e ci vive per i mesi di un'estate come Robinson dalla fine dell'inverno diciamo così all'inizio dell'autunno come Robinson sull'isola deserta potevo proclamare a voce alta sono il monarca di tutto ciò che vedo e nessuno contesta il mio diritto ecco effettivamente di un luogo talmente isolato che lui diceva posso definirmi il padrone tutto quello che credo è roba mia diciamo non c'è nessuno nessun altro che può rivendicare questa tra virgolette proprietà e qui ancora una volta vi dicevo un po' il mito del buon selvaggio il discorso della relativo valore della proprietà che invece per noi diventa un valore assoluto rappresentavo allo stesso tempo l'abitante più in vista e quello caduto in rovina il nobile possidente il fedele guardiano il giudice l'oste l'ubriacone lo scemo del villaggio avevo così tanti me tra i piedi che a volte la sera uscivo e andavo a fare un giro nel bosco per stare un po' da solo ovviamente un po' ironico paradossale insomma in questa descrizione un villaggio in cui c'è lui da solo e lui da solo fa tutto dai ruoli più alti della piramide sociale a quelli più bassi ecco dicevamo i primi tempi soprattutto le prime settimane questa baita sono caratterizzate dalla solitudine ancora una volta lui per descrivere un po' quello che sta vivendo cita Toro e dice in questo capitolo che si intitola Notte dove appunto riflette sulla solitudine Toro scrive trovo sia salutare restare soli la maggior parte del tempo la compagnia anche delle persone migliori risulta ben presto insopportabile e dispersiva amo stare da solo non ho mai trovato un compagno più intimo della solitudine molti di noi sono più soli in mezzo agli altri che quando se ne stanno nella loro stanza un uomo che pensa o lavora è sempre solo lasciatelo dove sta la solitudine non è misurata dalle miglia di distanza tra un uomo e il suo prossimo la compagnia di solito è cosa da poco ci incontriamo troppo spesso senza avere il tempo di acquisire nuovo valore uno per l'altro ci incontriamo ai pasti tre volte al giorno e offriamo all'altro un nuovo assaggio di quel vecchio formaggio ammuffito che siamo dobbiamo accordarci su una serie di regole chiamate educazione e cortesia per rendere tollerabili questi frequenti incontri ed evitare di dichiararci guerra a vicenda ci incontriamo in posta alle assemblee davanti al cammino viviamo ammassati ci intralciamo e inciampiamo uno nell'altro e in questo modo perdiamo il rispetto reciproco ecco il paradosso che descrive Toro il paradosso che capisce e intuisce Paolo è un paradosso che forse possiamo vedere sulla nostra pelle tutti i giorni più stiamo insieme con gli altri più perdiamo forse il senso più profondo del vivere civile del rispettarsi l'un l'altro del volersi bene l'un l'altro e siamo vicini l'uno all'altro più tollerandoci diciamo che non amandoci davvero ecco finalmente però poi arrivano i pastori e arrivano così delle persone che incuriosiscono Paolo in particolar modo questo Gabriene un tipo rozzo un tipo un po' ignorantotto così come vissuto da parte degli altri anche dalla gente di montagna che lo disdegna lo ritiene un po' lo scemo del paese eppure è una persona che invece conquista Paolo e merita il massimo rispetto allora Paolo dialoga con Gabriele e Gabriele questo pastore insomma questo uomo così rozzo che vive anche in maniera molto semplice chiede probabilmente a Paolo come mai Paolo è lì da solo in mezzo ai monti in questa baita e io provai a spiegargli che cos'ero andato a fare lassù gli avevo detto che non mi piacevano le regole i padroni sono uno scrittore voglio riprendere il gusto della scrittura ho deciso di stare un po' di mesi da solo non mi piacciono le regole i padroni e poi prosegue il discorso Paolo solo quando ne fece una questione politica aggrottò le sopracciglia in una smorfia Paolo abbiamo detto Paolo Cognetti è anche impegnato socialmente politicamente e quindi non dico che voglia non so fare da maestro insomma a Gabriele però lo sta un po' provocando anche sugli aspetti politici ma Gabriele risulta molto scettico sulla questione politica eppure ero convinto che fosse molto più anarchico di me lui che non aveva una famiglia né un lavoro fisso né un televisore un'automobile un mutuo in banca ecco è così proprio Gabriele in maniera molto molto semplice povera poverissimo forse adesso avrà una ragazza dice Paolo nelle sue presentazioni ultime presentazioni di questo libro però davvero quando l'ha incontrato non aveva neanche questo non ha un lavoro fisso non ha un televisore non ha un'automobile non ha un mutuo in banca è possibile è concepibile questo tenete presente che oggi chi vive in montagna ad esempio in realtà dice Paolo è come un cittadino che vive in montagna ma tutto automobili televisori internet e cellulari e via discorrendo ma lui questo Gabriele non aveva bisogno di soldi se non per comprarsi da mangiare e da bere e non votava non era rintracciabile in rete non faceva numero in nessun sondaggio né indagine di mercato non era nella media di niente un uomo così che si era costruito un'esistenza ai margini e ci viveva in pace era quanto di più sovversivo io riuscissi a immaginare per la nostra epoca però non trovavo le parole per dirglielo cioè vorrebbe quasi quasi indurlo ad una coscienza sociale una coscienza politica Paolo vorrebbe indurre Gabriele questo umone questo pastore questo rambo questo questo uomo così massiccio un po' grossolano vorrebbe indurlo ad una coscienza politica ma 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 Gabriele è un tipo che non va nemmeno a votare no e quindi non riesce forse a convincerlo no a a prendere partito ma rimane colpito da lui rimane colpito da Gabriele ecco a pagina 94 poi ci sono ovviamente c'è un momento anche in un appunto in questa fase del romanzo in cui si perpetuano dei contatti tra virgolette con la città con la civiltà ma tutto questo non fa altro se non convincere il Paolo della delle sue decisioni così presi la la mia decisione per un po' me ne sarei stato in giro partivo bello carico eppure chiudendomi la porta alle spalle mi sembrò di liberarmi un peso come sempre il peso poteva essere la baita o la gente che ai miei occhi l'aveva profanata ma era molto più probabile che fossi io il peso come abbiamo spiegato bellissimo questo libro perché credo che sia un po' il crucio di tutti noi quello di riscoprire riscoprire se stessi da che altro scappiamo quando scappiamo di casa se non da noi stessi più che dagli altri addio mi dissi e poi presi il sentiero che saliva è così insomma in questa seconda parte del romanzo incominciamo a camminare insieme con Paolo attraverso queste montagne incontrare anche gente andare come accade nel capitolo successivo in un rifugio era un rifugio antico costruito nel 1823 per dare riparo agli emigranti che tornavano a casa d'inverno il colle su cui sorgeva aveva diviso per secoli due stati diversi credo che siano l'Italia e la Francia tanto che lavando oppure non so se l'Italia o la Svizzera tanto che lavando i piatti in cucina si rischiava ogni volta di inciampare sulla pietra di confine incastonata nel pavimento e così questo posto continua questa esperienza estrema di di Paolo questo vivere contento di di poche cose semplici diventare anche lui un Gabriele diciamo dormivo dentro vestiti che sapevano di zuppa di cipolla stufato lasciato sul fuoco per ore lana umida e fumo di legno di legna l'odore che avrei conservato a lungo come un profumo di casa oppure il capitolo che lui intitola pianto mentre stavo lì a compiangermi perché insomma certe volte anche in quelle situazioni ti trovi anche di fronte alla morte comunque a difficoltà estreme e allora lui a un certo punto cade ad esempio mentre stavo lì a compiangermi e lì sdraiato mentre stavo lì a compiangermi vidi un'aquila volteggiare sulla mia testa tracciava cerchi sempre più stretti come se stesse puntando una preda e mi venne naturale il sospetto che la preda fossi io ero disteso immobile per quanto ne sapeva l'aquila potevo pure essere morto se fossi stato morto pensai dopo un po' avrebbe rotto gli indugi sarebbe sceso a banchettare ne aveva trovato diversi io di camosci e stambecchi spolpati fino all'osso i loro scheletri mi mettevano tristezza però mi consolava il pensiero che avessero dato forze a qualcun altro potendo scegliere mi sarebbe piaciuto fare quella fine anch'io un'altra cosa che compare più e più volte infatti nel libro è così la riflessione sulla morte come un qualcosa da viversi non con quei riti ad esempio la sepoltura che sono tipici di una civiltà ma tornare alle radici quando appunto l'essere morto non fa altro che essere inserito nel ciclo vitale e quindi riutilizzato dagli altri esseri viventi come una carcassa di cui cibarsi e poi il ritorno alla baita dove per esempio lui parla degli alberi adesso non sto qui a leggervi tutto dai perché non voglio ripeto rovinarvi il piacere di leggere ad esempio le descrizioni degli alberi perché come dice Paolo in realtà chi vive in montagna non parla mai di natura ma parla degli alberi parla delle varie piante parla dei prati dei boschi delle cime perché non esiste un concetto così astratto per loro di natura ma un concetto ben più concreto e così fa un altro incontro importante che è l'incontro di Remigio che oltretutto era stato quello che gli aveva affittato la baita ecco ancora appunto dicevamo gli animali i camosci per esempio che ci fissavano sorpresi prima di dileguarsi in due o tre balzi e voi che cosa ci fate qua su a quest'ora sembravano chiedere chiedere i camosci non l'avete una casa è ancora la desarpa che è la transumanza di bovini che avviene ormai verso la fine del romanzo il giorno per esempio del 29 settembre il giorno di San Michele e qui viene in mente un altro famoso testo la poesia settembre tempo di migrare insomma pastori di Gabriele D'Annunzio niente io credo di avervi dato degli spunti degli output scusate degli input più che sufficienti per poter quindi poi leggere godere fino in fondo di questo libro che ripeto certe volte mi ha fatto fermare e mi ha fatto riflettere su me stesso sulla mia vita sul senso della mia vita e credo che questa sia la cosa che probabilmente cerchiamo da libri grandi belli come abbiamo detto Dante Leopardi e anche Paolo grazie Paolo grazie a tutti